Il primo temporale, primi disagi a Sciacca, sono stati sufficienti 5 minuti di pioggia battente mista a grandine per generare in città i soliti problemi. Strade allagate, tombini saltati, alberi sradicati e difficoltà di transito in diverse strade, sia dalla periferia sia del centro abitato. In Contrada Perriera, nei pressi del campo alternativo Giuffrè, un fiume di acqua ha reso difficoltoso il transito veicolare e diversi automobilisti hanno preferito effettuare un'inversione di marcia per evitare di rimanere impantanati con le loro auto. Sempre in Contrada Perriera, in Corso Miraglia, è saltata la rete fognaria, nel punto ormai noto e transennato da diversi mesi. Inoltre, in via Segni, a causa delle forti raffiche di vento, un grosso albero si è abbattuto su un'autovettura in sosta. Fango e detriti, oltre all'acqua, hanno invaso, come solitamente succede, la via Lido e la parte bassa della città. Problemi anche in Contrada Isabella, in via Aldomoro, dove è saltato un tombino. Non è andata meglio nel centro storico. Un fiume di acqua in via Pietro Gerardi ha trasportato Mastelli e quant'altro si trovava davanti ad abitazione ed esercizi commerciali. Così come, in Corso Vittoria Emanuele, a ridosso di Piazza Angelo Scandaliato, c'erano anche sedie a galleggiare lungo l'arteria. Insomma, per fortuna sono stati solo 5 minuti di pioggia, seppure intensa, altrimenti la situazione sarebbe stata ancora più grave, come pure è successo in passato. Quanto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, evidenzia come la città non sia stata preparata alle prevedibili piogge di settembre. L'allagamento di diverse arterie è stato causato infatti dalla mancata pulizia di tombini e caditoie, interventi che andranno effettuati al più presto perché siamo solo all'inizio della stagione delle piogge.